Signori amici sportivi bentornati in un nuovo episodio di Crash Royale di Passione Oggi andremo a spacchettare tutti questi paroli Qui è Tony con voi come sempre aspettando il nome ufficiale Che probabilmente sarà quello che sarà Ho già in mente però Aspettiamo l'ufficialità 9 Archer Qua siamo a 2600 Ho fatto provato un mazzo ieri 3 partite e l'avversario ha lasciato lo scontro Ho scoperto Oh la Valkyrie, la Valkyrie, quanto è bella la Valkyrie Ho scoperto che solo così ultimamente riesco a vincere Non riesco a capire il motivo Non riesco a capire il perché A tutti i profili il gioco mi sta facendo perdere O io ho disimparato a giocare Non lo so, signori sportivi, signori Però qua sta succedendo qualcosa che non va più bene 9008 d'oro Siccome qua non uso epiche Il barile epico non me lo compero Vediamo un po' Allora, questo è il mazzo che mi ha fatto vincere Questi io li vorrei portare su 2000 e 4000 La Valkyrie, no La Valkyrie è la prima che devo portare su 4000 Ok, quindi ci posso portare avanti anche questi Proviamo a portare avanti questi Anche se questo è un mazzo che ho fatto proprio a scazzo Infatti tutte truppe volanti Proviamo a potenziarci questo Super mega sgherro qua Rivello 6, 632, 199 Daniel Secondo Stefano Saluta Antonio Ciao Antonio Ciao anche Youtube Grazie prof O il baule leggendario allo shop Ragazzi io non mi sto inventando niente Cioè 2003 di coppe E' appena salito in Arena 8 Voglio dire Le cose quale vedete anche voi Non mi capita mai Buonasera a tutti Qualcuno che si fa una partita Cioè non mi capita mai Il baule leggendario Quello con le gemme Ha il mio primo principale Il mio primo profilo principale Allora proviamo sto mazzo Questo dovrebbe andare bene Signori Passiamo al profilo di Davide Con una sorpresa Che probabilmente Già vi ho anticipato nel video di ieri Leggendario in arrivo Metto il punto di domanda Leggendario in arrivo Metto il punto di domanda Signori Eh vaffanculo Signori La Questo qua è un video registrato Mi avete scoperto Va bene Il baule super magico di Sì Ne si chiama di Davide98 Lui che ricordiamo ha già 5 leggende Quindi potrebbe trovare la sesta Allora Poi a fine video Lui non fa niente altro Quindi stoppa di netto il video Quindi a fine video Poi passeremo un altro profilo Va bene Però comunque sia 1-0 E' finito Andiamo a spacchettare Questo barile Super Barile Ultra Mega Super Magico Andiamo Dai Ok Eccolo qua Ci riserva 4.700 di oro Porca miseria 50.000 di oro 12 mega sgherri Si parte subito forte Con tante carte Tanti sgherri 40 moschettieri Le rare Già sono finite Guardate che culo 523 tesle Lui c'ha un culo allucinante Con questi cazzo di baule 85 valchiri ancora E ora Guardate cosa gli escono 11 principe Io non ho parole Non ho parole Gli sono finite tutte le carte Gli mancano solo 12 Epiche Gli mancano 12 epiche Lui trova 12 epiche Porco demonio Come cazzo fa Due baule super magici Mastino per noi Va bene Passiamo all'altro profilo Signori Io non lo so Come cazzo è possibile Che il povero Riun Ha aperto il super magico E gli è uscito Come si chiama Quello schifo là Non gli è uscito niente Ne ha trovato un altro E gli è uscita la scintilla Vabbè Però Due super magici Per trovare una scintilla Lui ha aperto Due super magici Davide E gli sono uscite Due leggendari Nonostante lui Sta in arena 9 E se le compra E ce le ha tutte Quasi tutte le leggendarie E va bene Ho aperto il super magico A Gianni Morandi Non è uscito un cazzo Manco là Cioè me l'hanno aperto Va bene Vediamo qua 25.000 Ok Ragazzi Io ho fatto un mazzo Ieri Mi ha fatto solo perdere Andiamo a spacchettare Intanto questo barile Lo so Non vi sto portando Un cazzo di contenuto Di niente A sto telefono Solamente che io Voglio Aspettare Guardate che cosa è uscito oggi Un'altra leggendaria Per il tronco Ovviamente L'offerta speciale A me non esce Non esce Perché io Sono scemo Ho fatto sto mazzo L'ho copiato al prof Oggi ci ho fatto due partite E come vedete Due sconfitte Allora Io ora vorrei fare una battaglia In globale Con voi Però porca miseria Mi si è commesso a fare la pasta Un attimo ragazzi Mi devo cucinare oggi Quindi Fatemi vedere un attimo Che ora sto Cagando Si Avete sentito bene Sto al bagno Allora Io vorrei portare Su queste due carte Allora Però 8000 Io Non le spenderò mai Perché Devo arrivare a 120.000 Che mi devo comprare Le tre leggendarie Sperando che mi escono E come potete vedere Questo video Cercherò di caricarlo Il più Il più prima possibile 17 ore E mettono questo Questo io ho visto ieri Un video su youtube E' una cosa allucinante La torre E' andato verso la torre centrale Uno l'ho stato con lo specchio Quindi ha messo due draghi E' andato verso la torre centrale Ha fatto Come la torre inferno A togliere le vite Praticamente ha fatto Stava 2300 In un secondo 1700 Il secondo dopo Boom Zero Vittoria Cioè ragazzi Una carta che toglie così E' allucinante Se uno usa questo Con Il nirazzo si chiama Quello con la gelo E diventa una cosa Imbarazzante Allora A me mi mancano Ste quattro leggendarie Qua sotto Io voglio questo E questo E questo Vabbè Allora Mo E al prof Gli è uscito Due volte Il barile Quello delle 500 gemme E vabbè Se l'è comprato E non ha fatto il video Ok A Rion Gli è uscito Però siccome Gli hanno gemmato Il baule super magico Non se l'è potuto comprare A me non ancora esce Un cazzo di niente Signori Questo gioco Non ha capito Che la mia pazienza E' infinita E' infinita Io posso stare un mese Senza giocare Pur di trovare Questo disgraziato Brutto Al mercato Questo Non me ne frega Che non mi esce Ma io voglio questo A tutti i costi Non l'ha capito Siccome adesso Sono arrivato A un punto In cui sto aspettando Da ormai Quasi una settimana Che sto in arena 9 Allora Visto che sto aspettando Aspetto anche lui Va bene? Ora Faremo una partita Perché è giusto Che voi vediate Come io gioco E' giusto E' giusto Che lo vediate E' giusto Che mi critichiate E che mi diciate Guarda Questo hai messo male Hai fatto male A metterlo Guarda Qua hai fatto una mossa Da pirla Io spero che mi si senta la voce Perché mi sto cambiando Sono appena tornato Da lavoro Come potete vedere E' solo E' due minuti e un quarto Porca miseria Eh signori Mi devo andare a cucinare Allora Mentre cucinerò Io ora parlerò E fammi vedere Perché mi sa Che ha finito Pure i bavoli A Gianni Morandi Va bene Signori E' giusto Che voi Vediate Come io gioco E' giusto Che mi consigliate I mazzi E tutto quanto Allora Vediamo un po' Però mi sa Che faccio prima La pasta Ok L'acqua sta bollendo Allora Come accendo la televisione E ora faremo Una partita Col mio fottuto Mazzo di prima Che usavo Questo Ci sono arrivato In Arena 8 A 2007 E non sono riuscito Ad andare oltre Con questo Però Lasciando perdere Quel Disgraziato Qua c'avevo la scintilla C'avevo Attenzione C'avevo la scintilla Poi questo 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 E al posto di lei Avevo la valchire La valchire E' molto interessante Perché quando mi mettono La strega di merda Dietro La valchire Fa meglio di questo Ovviamente Eeeh Ok Scusate ma c'ho la televisione Vecchia Con Con il decoder A fianco Quindi Fa un po' di commedia Super episodio Oggi Con la Una Game Game play Di questo Di Arena 9 Allora Adesso io vorrei Togliere La scintilla Però non posso Mettere i namei Ciani verdi Devo mettere Qualche altra Truppa Che mi fa danno Pesante Allora Fammi pensare Perché Questo Ah ok Avevo stoppato il video Come un asino Allora E' esattamente Lo stesso mazzo Che ci sono arrivati In Arena 9 Siccome volevo Lei è il minatore A tutti i costi Ora la devo usare Se no Come cazzo Ragioniamo qua Allora Proviamo con questo mazzo A farci Una bella partitozza In torneo Perfetto Allora Le carte ce le date Relativamente Bene Relativamente Bene Aspettiamo la sua mossa Se lui non lo fa Facciamo di questo Come al mio solito Prepariamoci il gigantone Da mandare Ok Oh Quella E' proprio la mossa Che non volevo Vediamo che cosa fa Mettiamo questo C'è domani Proviamo di lei Proviamo A buttare giù C'è Che cazzo Faccio Oddio Però forse Però forse Però forse Oddio Con la valchiria Con la valchiria Si Ecco In questo momento Se io non avessi avuto La valchiria Ma avessi avuto Quei pisciatori Verdi La La regina Qua Questa qua Avrebbe morta Allora Ok Ha morto lo stesso Però Ha dato qualche hit Importante Proviamo A non difendere Ah Si riprende Eh ragazzi Scusate ma E' salita mia nonna E stava E mi stava a dire Che dovevo cucinare Ma io già lo sapevo Ok Comunque E' andata E' andata bene Vorrei provarci In globale Però Siccome Ho stoppato Quindi voi non avete visto Effettivamente niente Proviamo a fare Ve le faccio vedere Un'altra Ehh Quanta pazienza Allora Proviamo di questo Perché Quando ci da il gigante All'inizio E' sempre buono Proviamo a fare Di questo Dovremmo mettere Il gigante Il mago Eh dovremmo mettere tutto Allora proviamo a fare Oh metti Ah ok Vediamo come si comporta lui Vediamo come si comporta lui Ok mette quel Pezzo di merda là Io ora vado pesante Ci vado pesante Oh perfetto Quello non dovrebbe Non dovrebbe Porca miseria Fa dannaria No Altro che Porco diavolo Porco diavolo Non dovrebbe creare problemi Il cazzo Ha creato un sacco di problemi Proviamo a vedere Se possiamo annientare questo C'è Il cazzo La hit ce l'ha data lo stesso Vaffanculo Ragazzi Senza estrattore Siamo fottuti Siamo fottutamente Fottuti Che gli faccio io a quello Se L'unica cosa che posso fare È questa L'unica cosa che Guardate la vita del gigante Come cala Signori Una cosa Allucinante Non le ha fatto niente Non mi beccare la principessa Ok amici A puttane A puttane Cioè come sono Come hanno fatto A morire quelli Che gli vuoi fare Signori Il torneo L'ultimo torneo Che io farò Almeno per il momento Fin quando non becco Altre gemme E altre casse Che le casse Non le avrò mai Almeno per il momento Il torneo Finisce qua Cioè l'ultimo torneo Allucinante Tre carte Cioè tre carte di merda Per dieci gemme Signori Fin quando non trovo La quadratura giusta Allo Tremila e dodici Una partita ci sta Una partita ci sta Però Come ho giocato l'ultimo Proprio no Non ci siamo Devo Devo fare qualche change Devo fare qualche change Allora la principessa Ci può stare Però fa troppo È troppo lenta Signori Fa troppo Tre secondi Porca miseria Tre secondi Si Porco diavolo Allora Proviamo Proviamo Ad andare di questo C'ho quattro orare Al sette Quelle al dieci La leggenda Al due Dai Proviamoci Proviamoci Con livello dieci Allora Vediamo un poco Ok Cinque minuti Ci stiamo Allora proviamo Di questo E prepariamo il gigantone Se Undici Se Tutto all'undici C'è sto pezzo di Mardaccia Zappa tutto qua Zappa la vigna Altro che Porco diavolo Ora io non mi voglio difendere Perché voglio accumulare Il cazzo Voglio accumulare Ma avete elevato una torre Dio Dio Signori Allora Visto che ho l'estrattore Proverei a lanciare Il gigante Il gigante Lui mi fa un attacco Come quello Vai Proviamo Andare di questo So che Probabilmente Sto sbagliando Però io voglio Giocarmela Così Allora Lui le frecce Mi sa che Non le dovrebbe avere Perché prima Non le cacciate Se riesco Il cazzo Gioco proprio Di merda Gioco E se ci si mette Pure questo Signore Abbiamo perso Allora Proviamo a fare Di questo Se ho calcolato Bene Ok Ho calcolato Bene All'11 Signore Ma questo C'ho tutti Agli 11 C'ho tutto All'11 Sì La furia La zap Ok Quindi anche se Ci avessi avuto La scintilla Al culo proprio Allora Lui sta giocando Senza estrattore E mi sta a fare Il culo Significa Che io sto Giocando Veramente male Io non riesco A capire Dove sto Giocando male Porco Diavolo Lui c'ha Tutte le carte All'11 Che cosa Gli devo fare Proviamo a fare Così Ma Che vuoi fare Proviamo a fare Così Proviamo a fare Così I barbari Penso che L'ha tirati Prima Quindi non Ce li dovrebbero Allora Lui si difende Io la scintilla La dovrei riuscire A togliere Perché se Lui si difende Non mi può Levare Quei cosi Ok Quelli Dovrebbero Se Vabbè Il tronco È Allucinante Il tronco Che mi toglie La principessa È qualcosa Di abominevole Allora Proviamo a fare Così Là c'ha Quello stronzo Ora probabilmente Dovrebbe avere I barbari Eccoli là Io lo sapevo Cioè Guardate il gigante Come muore Io Non posso Io non posso Avere Io non posso Vincere Contro questo 10 secondi Signori Io non posso Vincere Ma proprio Mai Ma proprio Mai Ma lo so Signori Se sono io Se il gioco Comunque State 32 Allora 2080 Ok Ora noi Probabilmente Ci fermeremo Per Qualche Mese Perché Visto che Questo stronzo Mi sta a far uscire Il cazzo Al negozio E non mi fa uscire Le promozioni Qua Delle casse Da due giorni Penso che Per un mese Ci fermeremo Questo mazzo Secondo me Può andare bene Il problema Sono i livelli Perché lui C'aveva quei barbari All'11 Forse dovrei rimettere La palla di fuoco Può essere Sta di fatto Che Non giocheremo Ora Fin quando Non ci dà Almeno Due bauli E almeno Il minatore Al negozio Ciao Aglio Ci vediamo Al prossimo episodio